Su Topolino numero 3526 arrivano i mini-galli di Topolino realizzati da Panini in collaborazione con una azienda specializzata. Il primo, le tele di Priscidila, è un mistero misterioso che si svolge all'interno dell'atelier di una famosa titrice. Quello che hai tra le mani è un caso investigativo da giocare da solo con luce, richiede poco spazio, un po' di tempo e tanto impegno. Ricorda però un caso che era l'altro. In mini-galli di Topolino, in tele di Priscidila, Topolino e i basatori sono alla ricerca del misterioso imbrattatore di dipinti che ha fatto infuriare la burbera artista, ma hanno bisogno del tuo aiuto. Nella scatola, che in realtà è uno del proprio oggetto opribile, è presente la scena del crimine, le carte in vizio e i regolamenti su come utilizzarle. Con questo unboxing vi prendo una leggerissima pausa rispetto ai soliti Disney Comics & Science. Spero che vi sia piaciuto. Non mi resta quindi che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevervi notifiche su tutti i nuovi miei caratteri. Saluti a tutti!